La scrittrice pugliese Antonella Lattanzi ha vinto la sezione letteratura della sesta edizione del premio SILA 49 con il romanzo Una storia nera edito da Mondadori, lo storico Angelo Dorsi, autore di Gramsci, una nuova biografia, e l'antropologo Vito Teti con il saggio Quel che resta, vincono ex seco il premio Economia e Società. Vito Teti, peraltro, è il primo calabrese ad aggiudicarsi il riconoscimento da quando, nel 2012, la fondazione guidata da Enzo Paolini ha ripreso l'antica tradizione letteraria inaugurata nel secondo dopoguerra da Raffaele Cundari, Mauro Leporace e Giacomo Mancini. A John Dicchi, accademico e storico britannico, va invece il riconoscimento Sguardo da lontano per il suo volume Una catastrofe patriottica 1908, il terremoto di Messina. La cerimonia di consegna del premio, diretto da Gemma Cestari e condotta da Ritanna Armeni, si è svolta nella Galleria Nazionale alla presenza del giurista Gustavo Zagrebelsky. Il presidente emerito della Corte Costituzionale, nell'ambito della manifestazione, ha anche tenuto una partecipata Lectio Magistralis dal titolo Immagini della Giustizia. Salvatore Bruno per la C News 24